Viva lo suo bello, un sole a faria, ave, 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 ave Maria, ave, 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 ave Maria. Viva lo suo bello, un sole a faria, ave, 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 ave Maria. In mano portata un Rosario Maria, che addisa ai fedeli del cielo la via, ave, 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 Ave Maria, ave, ave Maria, unito di lode sinanza Maria, che affatima un giorno raggianti a Maria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave Maria, ave, 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 ave Maria. Ave Maria, ave, ave Maria. Ave Maria, ave, ave Maria. Ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave Maria, ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Grazie a tutti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi agli. Grazie a tutti. Oh Maria, quanto sei bella, sei la gioia e sei l'amore. Ma hai rapito questo cuore? Notte e giorno io penso a te. Ma hai rapito questo cuore? Notte e giorno, notte e giorno penso a te. E viva Maria, Maria, e viva. E viva Maria, e viva credo. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. L'ora di Dio, prega per noi peccatori. La sua morte. La sua morte. Quantoagi è successiva. La sua morte. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti.